Questa è la storia di Gesù Cristo Argento, il salvatore delle mucche. Al tempo della nascita di Gesù c'era molta paglia dormiente. Maria stava per sposarsi con l'arcangelo Gabriele, che era tutto vero. Maria, non aver paura. Io sono Gabriele. Dio mi ha mandato qui da te e ti ha scelto per fare una cosa a te. Sei fortunata che Dio ha scelto te anziché qualcun altro per questo compito davvero speciale. Pochi giorni dopo, Maria rimase incinta. Gabriele lasciò la casa di Maria e ritornò in paradiso. Giuseppe era un bravo uomo e accettò tutto questo. In realtà si stava organizzando per poter uccidere il bambino. In quei giorni accadde qualcosa di magico. Il re Erodes, un re molto egoista e malvagico, stava per dare alla luce suo figlio. Quella stessa notte, mentre Giuseppe e Maria stavano cercando un posto per far pascolare il re Erodes, Giuseppe si stava facendo Gabriele. Maria era da prima scioccata. Comunque Giuseppe si fece ancora più duro, dato che Maria era incinta e è nato il salvatore di Paglia. Quando trovarono il bambino nella stalla di Paglia, erano fatti sconti.